Dopo Berlino e Madrid ha fatto tappa ieri a Fano e Pesero Vokov Drivers, un progetto internazionale nato per migliorare il trasporto e la logistica guidato per parte italiana dalla CNA di Pesero Urbino. Una delegazione formata da rappresentanti di Spagna, Germania, Svizzera e dal Ministero dei Trasporti della Turchia è stata accolta ieri nella Sala Rossa delle Comune di Pesero dal Presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini e dal Segretario CNA Morino Bordoni per la penultima tappa di studio di progetti condivisi. Progetti che si concluderanno il prossimo mese ad Ancara in Turchia. Una bella soddisfazione per la CNA di Pesero Urbino, siamo giunti al termine di un progetto biennale che ci ha visto protagonisti insieme a delegazioni della Spagna, della Turchia, della Germania e della Svizzera per quello che riguarda la formazione professionale ad altissimo livello per i driver e per gli autisti dei veicoli commerciali in tutta Europa. Abbiamo cercato di uniformare le regole formative e dopo questo bellissimo lavoro che stiamo disseminando adesso di due anni, arriveremo a maggio ad Ancara per il final event, l'evento finale e per concludere questo nostro progetto che poi vedrà ognuno dei partner protagonisti nei propri paesi disseminando tutto ciò che abbiamo studiato in questo bellissimo biennio. Quindi una grande soddisfazione avere tutte le delegazioni qui a Fano in questi due giorni che ci ha permesso di far apprezzare oltre che la nostra professionalità anche il nostro bel territorio e l'ospitalità tipica italiana. Per quello che riguarda il trasporto internazionale è molto importante parlare di infrastrutture, quindi nella nostra città il tema delle infrastrutture è molto attuale, quindi abbiamo anche aggiornato i nostri partner europei rispetto a quello che sarà il futuro di Pesero, sia per quello che riguarda infrastrutture stradali che viarie e quindi è stato un bellissimo momento che ci ha permesso anche di far conoscere non solo la nostra professionalità, la nostra bella terra, ma anche tutto quello che sappiamo fare davvero come economia nel nostro territorio, che è molto e che sempre di più con questi progetti riusciamo a disseminare in tutta Europa.